Ciao, Alessandro Sirini, cliente della compagnia Mgoldex, sono qui a Monaco di Baviera per conoscere la compagnia, per conoscere il suo store e per conoscere il suo programma marketing. Io sono entrato in Mgoldex come cliente per guadagnare oro, a guadagnare oro attraverso un piano marketing e accumulare praticamente denaro all'infinito. Se vuoi conoscere questa opportunità che è per tutti non devi fare altro che contattarmi, mandarmi un messaggio, farmi una telefonata e credere semplicemente che le opportunità vanno colte soprattutto quando vengono presentate. Io ci sto mettendo la mia faccia, la mia voce, sono qui a Monaco, sono qui per far business. Credici anche tu perché l'oro è denaro. Grazie. Grazie. Grazie.